Salve a tutti ragazzi ben ritrovati nel nostro canale, io sono il signor Gosh e qui in fianco a me come sempre inesorabilmente c'è il signor Boss Continuiamo con Life is Strange, siamo stretti di tempo e andiamo avanti che sennò questo gioco non lo finiamo più Abbiamo appena fatto vedere a Chloe i nostri poteri, gli abbiamo dimostrato Questi sono venuti i penalti doc Attenzione Stiamo attenti a quello che succede La mamma saluta Guarda la mamma come sculetta Ha rotto una tazza Porta sfiga lo sai Sirena Guarda la mamma saluta, prenda il tuo club fuori Ha iniziato Il club Con i due denti Non dire niente del club Basta direi Si ma cosa sta guardando la nostra amica lì che sta guardando fuori in giro Ehm 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 Beh sua madre prima di tutto Il poliziotto fa credere Si poliziotto Ehm 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 sehr Ehm C'è ma cazzo scarafaggio ma porca scarafaggio è andato sopra il jukebox però non ha toccato i tasti quindi come cazzo fai? beh è andato a puttana e si è spiritato bravo ha guardato anche il televisore voglio cambiare la mia versione è stato l'insetto la sono bevuti da fare gli esami così allora fa cadere il bicchiere il poliziotto il poliziotto e ok il collega se la svegna il suo collega se ne va andiamo avanti li ferma una mosca farfalla una blotta guarda stronza guarda stronza guarda che prevedo il futuro allora fa passa saluta come al solito c'è la terza volta che scuoletta saluta e che ne so oops più tecero più l'accel oops posizionato rompela qui arrivederci è così p*** chi si si è guarda la blotta dove guarda 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 era meglio se era un ragno sai se era un bel ragno grande grosso è sicuro meglio che è venuto fuori da Jumanji di quei stronzi che hai visto cosa 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 ma porca ma ma abbiamo sbagliato qualcosa allora si cosa abbiamo sbagliato non lo so forse quello non è il poliziotto no ma no ma ah non è non è un poliziotto è un camionista allora Trevor fa cadere il Trevor ma si chiama Trevor il camionista eh e il poliziotto riceve una chiamata e se ne va no si che c'è uno che ha detto devo lasciare con la colazione si ma dopo dove hai detto dove è mio collega però ho detto aspetta Emma adesso dovrebbe essere giusto secondo me mi ha sbagliato a cuore il poliziotto perchè il poliziotto dice si mi tocca lasciare quella colazione ma dove è andato a finire il mio collega vediamo perchè il poliziotto è quello seduto in fondo aspetta vediamo lo lì vedi il terzo allora il camionista fa cadere ok shhhh ora devo prendere questa chiamata e prendere il mio prezzo e dove è la mia partita ehhh e vabbè non ce li fa ah perchè lui non ce ne è andato in realtà e ti ho detto che è uscito e ti ho detto che è uscito come sta qua ok allora il camionista fa cadere no si fa cadere la tazza e che è quello e il camionista e il suo collega se ne va il poliziotto diceva una chiamata e il suo collega se ne va si il suo collega se ne va ok cosa c'è dopo ehh Justin e Trevor lì e Joyce li ferma e poi quella della blood e la blood allora vediamo se abbiamo fatto tutto giusto cioè è giusto adesso basta si ha cambiato in teoria significa che ha fatto l'animazione giusta a meno che dopo l'ottava volta che facciamo sculatare sua madre oh vero no no shhh e ora devo prendere questa chiamata e lasciare il mio prezzo ehi dove è il mio partito a a not e questo valore il giusto l'amorà il il piglio e di ma c Ovviamente è una piaccia! Il migliore del piaccio? Puoi ringerci a qualcuno con nessuna stringa, riconoscire il tempo e BOOM! È come mai succeduto! Sì! Magari che hai fatto un movimento su me e non lo saprei! Sì, è quello che ho fatto. Puoi riconoscire il tempo, Max. È davvero inglese! Dobbiamo giocare! Non ho tempo. Tu non hai detto solo quello. Ah, guardate il tuo cuore. È troppo bambino? Eh, sicuramente. Sì, c'è il mio collega qui di fianco, la spara ha flashato troppe volte. Poi, vabbè, avrebbe fatto lo stesso l'animazione. Ok, vabbè. Provami il modo da Chloe. Ma non si lascia lì il cibo! Sì, hanno lasciato metà colazione. Porca miseria. Poi io non sono mai capito come fare in americana però. Arrivo, 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 su qua. Ok, Supergirl, andiamo al mio segreto. Ok, andiamo. Non c'è la risposta. Abbiamo un paio per andare, e ci siamo. Vabbè, prima che la mamma iniziare un po' di più, mettiamoci. È Kate Marsh, da Blackwell. Big whoop. Non mi chiamate una volta in 5 anni, e ora sei un po' di più che tu vedi ogni giorno a scuola? Vedo come si riuscite. Quindi, andate, chate Kate Marsh da Blackwell. Ho altre persone che si mette con le due. Rispondi. Limite a torniamo in giro. Rispondi, limitate a torniamo in giro. Rispondi. 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 E non stres. Rispondi. Non credo che ci siamo in giro. Rispondi. Ok? Rispondi. Grazie, Max. Se ti preferisci tranquillare con Kate, per favore. Sei ridicoloso. Sto a tranquillare con te, ok? Per ora. Rispondi. Non serve tornare indietro. Abbiamo fatto giusto. Succa che Chloe e Joyce hanno entrato un argomento. Torno in 3. Torno in 3. Sicuro, no? Sì. Tanto quella lì non aveva niente di importante da dire. Sì, in realtà sì. Eh. Quindi tieni buoni rapporti tra te e la tua migliore amica. L'altra se fa... richiama dopo. Cazzo, non ha funzionato? Sì. No? Sì. Ok, Supergirl. Stai calmo. Non rispondere. Saluto il traffico. Vediamo. Ciao, Joyce. Freedom! Mi sento male per Kate. Sì. 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 Lo stai utilizzando in questo momento? Mi domando io. E poi abbiamo lo stalker anche. Porca. Ci facciamo mancare niente noi. Ah. Ehm. Manca solo che qualcuno ci spari nel culo come al solito. Ehm. Esagerato. Eh, sai, ormai è classico che qualcuno ci deve sparare nel culo o qualcuno ci voglia uccidere. Noi facciamo solo questi giochi del genere. Dove fa? Perché? Perché? Perché adesso è una figata? Sei in mezzo alla pattumiera di ferro. Benvenuti all'America Rust. La mia casa da fuori dal inferno. Mh. E mi fuggio dall'inferno. Ok. Max, sai quanto è bello? Mi sembra più la discartica della roba di ferro. Non conosciamo da quanto tempo. Esattamente perché è tempo di divertire. Sempre la birra in mano. In effetti, la signorina Kate, lei prima diceva che lei aveva bevuto solo un forzo di vino e basta. Ma la cazzo di birra non è festa, non ce l'hanno questi qua. In quale cazzo di scuola di merda? Sono senza birra. Non ce l'hanno. Tu hai più potere che un'armi. Non sei scoperto della mia piccola toy. Inoltre, bisogna quello per la testa. Cosa vuole fare? Ma perché? Deve essere... Le donne ogni tanto devono fare le cretinate. Ok, facciamo questo. Puoi trovare 5 bottone mentre preparo la scuola? La scuola di bianca? La birra e le piazze. Un bel combo. Puoi svolglierlo. No, troviamo 5 bottone. Prego, per favore. Dobbiamo fare come tutti gli americani. Sparare le bottiglie. Invece di lanciarle adosso i cricchi. Dobbiamo usare le bottiglie. Esatto. No. Bossoli. Ok. Suci la pompa. Dobbiamo trovare 5 bottone. Siring. No. Evitiamo di andare là. Eh, era un sigaretta o comunque, non un siring. No, c'è scritto siring. Ah, siring. Sono io allora che non sono capace di leggere oggi. Ho bisogno di un oculista affatto prima allora. Palla. Asse. Vai giù. Sposta. Cosa succede? Cosa succede? Tu morirò. Ah, perché ci sono le botte. Aha. Ci sono anche le cose ostacole da fare. Bottiglie. 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 Una. Hello bottle number one. One more to go. Hello bottle number one. Allora. Si può scendere lì qua? Ah, non si può. Vedi i siringhe. Allora ho bisogno di non conlissare quanto prima. Dobbiamo cercare altre bottiglie. Cerca, cerca. Cori, corri, corri. Oh, c'ho abuso. Oh, c'ho abuso. Rottame. Eh, va bene. C'è un rottame. Sì, non è anche nel rottame. C'è una bottiglia. A meno che non l'ho guidato, non è alcunizzato con la macchina. Ma. Eh, sì, non sto guardando al treno. Cioè, non penso che... Ferrovii del treno. Si, semmai. Ma è sì. Meglio quello è tutto. Non è tutto. Questo episodio ci sta complicando la vita per niente No, tu ti stai complicando la vita Non trovo le bottiglie Eh, vabbè, sono verdi Vuoi non trovare delle bottiglie? Uno, due Ciao Quindi Gira un attimo l'angolazione di 360 gradi Si, piano No, alza leggermente 3,60 è meglio dire 3,60 è così, difficile Eh, ma infatti voglio che sia 3,60 Aspetta Oh, lo scimieremo troppo Ma che cazzo di problemi esistenziali hai ragazzo mio? Ma vai da un neurologo a quanto prima Ti dovi il numero, il cellulare per favore Ma stia buona Ma lo sto buono È un completo di un coglionito scimiare Sembra che devono fare fichi fichi Sembra che devono fare fichi fichi Aspetta, aspetta La cervo Sì, è quello dei suoi bellissimi sogni No, è quello del suo sogno È del suo sogno Ti ricordi che vedeva il cervo? Posso avvicinare? No No, direi Hai fatto una foto a un cervo che non esiste Aspetta È lì? È quella lì Quella in alto adesso? Sì Che non c'è No, per forza non ce la vedi solo tu Comunque Andiamo avanti Forse era un messaggio per un monitore di qualcosa Vestito Schifo Fai una cosa, prendi le bottiglie Poi vai a vedere il cervo Che forse era un messaggio per un monitore di qualche scazzata che succedesse Eh, ma non si può andare, dirò Non si può andare oltre Penso che sia scappato Un segno del tipo Che è stato attento perchè questa qua si spara In testa da sola Volevo ne vedete Vecchia fotocamera Bottiglia Per me Stupid bottle Torrent Ma ricada di nuovo Perchè devi trovare il modo di prenderla Eh, aspetta Eh, devo trovare qualcosa da mettere là Eh, allora Ok Troviamo qualcosa da mettere qua, tipo Cassa Sposta Sì, che forse la usi per andare sopra Sì, pensavo Sì, sapevo che è una roba del genere Che o vado io sopra O metto una roba che casca sul morbido Quindi posso Mettevi un panettone dalla Bauli Devo salire prima? No, scusa, dalla motta Sì Problema Eh, dicono sempre che è morbido Mi dicono sempre la volontà di buttarsi giù al canile Perché è morbido Buttati che è morbido Eh E quindi usiamo il panettone della motta Allora Qua abbiamo già guardato Sì Mi sa che sì Tre Manca una Sì, ma guarda Invece di fare un cazzo Ci dava la mano Finivamo anche prima Dopo non facciamo più un cazzo Su questo gioco Eh, va bene Dove? Ah, stavo uscendo Eh, mio Dio Stavo andando a esplorare Signore Bottiglie Ci sono bottiglie Ragazzi Magari Uccidiamo sta parte Finché cerchiamo le bottiglie Ci vediamo dopo Sì, perché è veramente una rottura di cazzi e mazzi Che è una roba assurda Ragazzi Siamo tornati Abbiamo trovato tutte le bottiglie Ci stava Ci stava per cadere tutto addosso Sì Perché il boss non è capoccio Ma va a cagare Allora Ma baci Dai a cagare Ho perso Ho perso È là a sinistra boss L'è appena passata Madonna Ma tu hai bisogno dell'oculista Ma molto più serio di me Bottiglie Figurati Scusate Scusate Un'altra per la ruota Scusate Il sorso della sciaffa Scusate 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 Max Vabbè Cosa vuol dire Che devo infatti ammirare Guidami Un po' più a destra No Forse devo aspettare Che la faccia tutta Sì Dimmi Perché mi guardi Scusate Scusate Ok Scusate Scusate leggermente su ma anche questo c'è una mira di merda aspetta devo aspettare però ok ok adesso posso rivolgere aspetta che c'è già ancora il foro ma su ok si spera che non le sbaglierà tutte si tu dovrei guidarla sei in arrompimento di coglioni lasciatelo dire spara prendi un piccone prendi un baglie e spagli non è possibile ma porca troia pupazza stramazza stramazza eh guarda dove cazzo ha rimbalzato non vedi che ha rimbalzato il proiettile perché sta deficiente ci farà ammazzare prima o poi sta impensata rincoglionita coi capelli blu guarda ma poi che cazzo di fisica gli ha messo sto proiettile che gira che sembra non so mister fantastic non so non so sarà ragazzi ho detto mister fantastico sono completo un incoglionito deficiente ma perchè vecchio già visto quindi niente max c'è spara al cerchio a sto punto dai adesso devi rimbalzare il proiettile e muore dai c'è è pericolosa stracazzo si te ne metti dentro la bocca poi premi il grilletto mi aspetta che vuole fare un'altra figata spara no parla tutti no ti vieni giù e appunto spara la bocca casca tutto ma se lascia che casca giù tutto che si f***a parla tutti ma no che rimbalza ok sei troppo busy per aiutare quindi mi aspetta io lo sapevo che questa è una completa deficiente che si spara addosso parla brezza meno quello non buona e vabbè ma porca troia porca puttana boss è di gomma quella macchina boss hai sparato il paraurti è ovvio che rimbalza ma va a cagare non torna indietro così è in acciaio quel cavolo di paraurti è mica in plastica come la tua fu... si ma non può rimbalzare così dio mio ma si è un paraurti degli anni 50 spara ruota vuoi vedere se rimbalza sulla ruota cazzo no sulla ruota no e il cast di testa no mancava solo qui no perchè a sto punto cosa strafigo è più strafigo se ti mando da un aeropolo ti apre il cervello al momento ragazzi fermiamoci qui se no veramente è stato un'agonia un aborto è stato un suicidio di massa di mattina mamma mia tutto quello che può essere insieme ma porca puttana diciamo che questo pezzo non mi è piaciuto tanto no ma è la cosa che mi ha fatto più odiare questo gioco è questo pezzo qua però vabbè però insomma vabbè niente non diciamo niente come avevamo già detto in precedenza non diciamo niente opinioni nostre del cazzo esatto ragazzi ci vediamo al prossimo episodio life is strange dal boss del signor Goshen è tutto alla prossima puntata ciao ciao ciao